Belle donne buongiorno, oggi review makeup, vi faccio la recensione di questa palettina di Urban Digay che è uscita da poco si chiama 1993 90s eyeshadow palette ed è proprio dedicata agli anni 90, ai colori che si utilizzavano nel trucco in quel periodo io adoro gli anni 90, per me sono stati un periodo strepitoso, mi sono divertita come una matta li amo anche proprio come mood, come look musicalmente perché c'era della musica meravigliosa negli anni 90 e quindi insomma sono rimasta subito colpita ma soprattutto sono rimasta colpita dai colori che sono veramente ma veramente meravigliosi adesso vedo di mostrarveli velocemente eccoli qua prima di cominciare con la review come sempre vi ringrazio per essere qui e se siete nuove del canale fate un giro date un'occhiata ai miei video e mettete like a quelli che vi piaceranno di più se vi fa piacere iscrivetevi cliccando sul tasto rosso che trovate qua sotto e se volete darmi anche un ulteriore supporto potete decidere di far conoscere il mio canale alle vostre amiche ecco qua i colori allora come vedete al centro abbiamo i due matt abbiamo il marroncino nocciola da utilizzare prevalentemente nella piega dell'occhio e il marrone più scuro caldo che serve a definire appunto l'angolo esterno e a dare profondità e a definire diciamo i contorni tutti gli altri sono shimmer e in particolare notiamo subito questo verde meraviglioso che è un po' un verde oliva e l'azzurro un azzurro un azzurro madonna un azzurro cielo molto molto anni 90 decisamente gli altri due shimmer sono perfetti per creare i punti luce perché sono un bianco luminosissimo è un rosa cipria molto delicato ma ben visibile e questi sono gli swatch come vedete gli shimmer sono super 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 luminosi e i due matt sono molto intensi e pigmentati il trucco che ho realizzato è questo che vedete e se volete sapere come ho fatto continuate a guardare il video perché arriverà il tutorial in 3, 2, 1, via eccoci qua belle donne allora la base è già fatta ed è sempre 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 la stessa quindi fondotinta Futurist di Estée Lauder colore 1W2 i due correttori soliti che uso in questo periodo quindi il matitone di Puro Bio nel colore Pesca e il Bare Skin di Bare Minerals nel colore Medium ormai uso solo questi sotto le sopracciglia ho messo un po' di correttore chiaro di Brochet e ho tamponato con un ombretto color panna che ho preso da una delle palettine nude di Huda Beauty ho usato questo colore qua centrale che è un panna ma va bene qualsiasi color panna ci sia a disposizione va sempre bene e le sopracciglia sono disegnate come sempre con la Brow Divine di Nabla nel colore Venus in aggiunta stavolta ho utilizzato questo prodottino di Clarence che si chiama Poreless ed è uno stick che minimizza i pori vedete fatto così non so se si riesce a vedere bene comunque è uno stick che si applica qui in queste zone o comunque dove avete i pori più visibili io per esempio appunto li ho qui e nel centro della fronte tra le sopracciglia e li minimizza liscia la pelle non lo uso sempre perché essendo un primer secondo me non va usato sempre però è molto efficace mi piace molto funziona benissimo e per idratare e rimpolpare un po' le labbra ho usato questo prodotto sempre di Estée Lauder si chiama Pure Color Envy ed è cioè somiglia a un gloss a tutte le caratteristiche estetiche di un gloss è leggerissimamente rosato ma non credo che si veda ed è leggermente rimpolpante niente di che si sente un po' come dire il freddo del mentolo perché c'è dentro un po' di mentolo non pizzica assolutamente se no non l'avrei usato direi che comincio come sempre dalla piega dell'occhio e vado a prendere questo color marrone chiaro matt che si chiama 69 e lo applico con il pennello mint di Neve Cosmetics ah però bello pigmentato allora il colore è leggermente caldo dalla cialda sembra un po' più freddino invece ha proprio una sfumatura marroncino calda un po' una roba tipo cappuccino una cosa così non saprei definirlo però è un colore assolutamente universale che va bene per tutti i tipi di trucco sta bene con tutte le carnagioni con tutti i colori di occhio direi che insomma sono quei colori che si utilizzano sempre e per sempre lo sfumo come sempre al centro della piega e lo porto un po' verso l'esterno allora adesso qua c'è grossa crisi perché io voglio usarli tutti questi colori e quindi magari verrà una cosa un po' pesa un po' strana un po' troppo funky un po' troppo un po' troppo grunge non lo so vabbè comunque ho deciso che voglio provare a usarli tutti quindi vado a prendere questa meraviglia di verde oliva è un verde strano ormai sono un po' infissa io col verde e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile naturalmente col polpastrello perché così si sfuma meglio la pelle reagisce meglio con il calore eccetera eccetera è uno spettacolo questo verde meraviglioso invece nella palpebra inferiore vado a prendere questo azzurro qua con un pennellino a setole corte e lo vado a mettere proprio qua sotto ah l'azzurro mi stavo dimenticando di dirvelo si chiama Seattle cosa c'è di più grunge di Seattle? io non lo so nella vita comunque adesso vado a prendere il marrone scuro che si chiama Collect Call e lo vado a mettere nell'angolo esterno sia sopra che sotto per dare più profondità e più forma all'occhio naturalmente poi il tutto va sfumato altrimenti rimangono le harsh line come le chiamano le youtuber super fighe super professional americane quindi andiamo a sfumare bene anche questo marrone qua molto bello molto pigmentato si sfuma in un attimo come potete vedere proprio facilissimo bene ci sono rimasti due colori allora il rosa chiaro che è questo qua sempre Polpastrello che nel frattempo sono andata in bagno a lavare perché c'era il verde prima centro ma proprio solo il centro della palpebra superiore per andare a fare proprio il punto luce dentro il verde lo lascio lì perché secondo me se lo vado a sfumare è un macello il verde non lo ha cancellato ha solo dato il pop di luce in più e poi naturalmente per ultimo ma non per questo meno importante questo bellissimo bianco shimmer che vado a mettere nell'angolo interno dell'occhio e questo si sapeva lo potevate già immaginare da sole cerco di non esagerare come al solito perché io faccio sempre dei pataconi in questa zona qua e invece non va bene e adesso devo andare a pulire assolutamente perché questo bianco tende ad espandersi e quindi si allarga un po' troppo non te devi allargare ecco devo pulire anche sotto con un po' di correttore perché c'è un po' di fallout il marrone scuro come era prevedibile ha lasciato traccia di sé in questa zona quindi vado a dargli una pulita e a definire un pochino meglio la linea qui dell'angolo esterno anche l'azzurro devo dire che si è un po' espanso si è un po' allargato tende un po' ad allargarsi niente di che basta saperlo e dopo si va a sistemare ultimo tocco prima del mascara matita color burro all'interno dell'occhio voglio l'occhio super aperto questa è la Magic Pencil di Nabla il colore è il più chiaro non so forse che si chiami light esatto bene tutto ciò non avrebbe alcun senso senza delle belle ciglia evidenti e cariche quindi piega ciglia mascara sempre quello non ve lo sto neanche a dire Too Faced Better Than Sex Waterproof applico e arrivo ecco fatto in realtà con un trucco così colorato grunge eccetera ci starebbero da dio le ciglia finte però oggettivamente e obiettivamente già so tutta colorata che sembro una matta in più mi metto anche le ciglia finte per andare fuori a passeggiare i cani cioè i miei vicini cominciano a preoccuparsi perché loro sono tutti tranquilli in tuta scarpe da ginnastica che girano i cani rilassati arrivo io tutta dipinta coi tacchi che porto fuori ste due scagaste di 4 kg l'una cioè cominciano a pensare male cioè io sto cominciando a essere additata come la matta del quartiere quindi insomma abbiate pietà almeno le ciglia finte gliele risparmio poveretti comunque contouring sempre eri chioba per cos mai fai senza titolo numero 4 voglio contouring freddo perché io in quegli anni lì non voglio dire che mi facessi il contouring grigio anche perché non mi facevo il contouring mi davo un po' di blush un po' di terra se ne avevo voglia però sicuramente sceglievo colori molto freddi quindi memore dei bei tempi vado di contouring freddo con questa palette che è già piena di crateri perché mi è piaciuta poco come potete notare perché voi dovete sapere che da quando la erichiova ha creato l'essenza titolo io non ho più comprato una palette viso perché sono talmente perfette talmente complete hanno talmente i colori giusti che io non sono andata neanche più non dico a vederle però non ho sentito l'esigenza uffa se sapessi parlare di comprare altro per cui ho questa la numero zero e le sto portando a esaurimento scorta non lo so Erika fa qualcosa inventatene delle altre perché queste qua sono troppo giuste veramente troppo giuste allora di questa uso anche il blush già che ci sono un rosino freddo che sta sempre bene d'appartote come diciamo a Bologna ma non tanta roba perché già ho gli occhi che sono così belli colorati insomma non andrei a infierire ulteriormente l'illuminante cosa facciamo ce lo diamo ma sì prendiamo sempre questo rosino facciamo tutto con questa palette qua che si fa prima io però devo dire la verità negli anni 90 non usavo molto l'illuminante per cui basta è già troppo proprio abbiamo già finito così labbra vado a togliere il residuo del prodotto idratante che avevo su perché ce n'è ancora tanto e poi come rossetto vado a usare il rossetto liquido di Fenty Beauty che è questo nel colore Uncuffed che non c'è colore più anni 90 di questo rossetto qua questo è liquidissimo quando si asciuga diventa super matt e quindi al centro dopo andrò a mettere questo rossetto di MAC che si chiama Whirl e che è un marroncino molto molto simile e che mi serve un po' a idratare il centro delle labbra perché questo asciuga parecchio vedete adesso sembra lucido perché è appena applicato bisogna stare molto attenti perché è proprio acqua questo rossetto qua e quindi se si va troppo fuori dal bordo dopo è un macello bisogna applicarlo proprio in maniera precisa e poi lasciarlo lì che si asciughi perché se si va a toccarlo a far cose strane dopo lui non lo recuperi più allora adesso che si è quasi asciugato prendo Whirl vi faccio anche lo swatch perché questo qui non so se ci sia ancora in gamma o se è uscito di produzione se c'è ancora secondo me è bellissimo soprattutto in autunno ma io lo uso anche d'estate perché è bello c'è niente da fare solo al centro giusto per appunto dare un po' di idratazione assolutamente no angoli perché se lo metto negli angoli paciugoni vari bene belle donne questo è il risultato finale a me piace moltissimo questa palettina qua mi intriga da matti mi piacciono moltissimi i colori anche se è un po' fuori dal mio standard è un po' fuori dalla mia zona di comfort perché è molto colorato però in fondo adesso arriva la primavera l'estate e quindi un po' di colore ci vuole questa palettina mi piace da morire mi piacciono i colori mi piace la qualità degli ombretti ma insomma parliamo di urban decay quindi sappiamo già di essere in un ambito di qualità molto alta la prossima volta che la uso voglio assolutamente usare l'azzurro sulla palpebra mobile e fare quasi uno scambio fra azzurro e verde poi magari non li userò sempre tutti i colori anzi quasi mari nel senso che potrei fare non so gli occhi azzurri con tutto il contorno sul marroncino e usare il rosa nell'angolo interno perché è un rosa molto chiaro non lo so ancora però ci sono tantissime possibilità tantissime combo fra questi colori qua che sono veramente ma veramente particolari e poi sono mixati bene perché ci sono solo due opachi ma sono gli opachi giusti cioè il marrone chiaro il marrone scuro e il resto essendo colorati è giusto che si giochino con la luminosità e gli shimmer quindi se la trovate dovrebbe esserci anche in negozio a breve al momento no io non l'ho vista in negozio da me però sul sito c'è e quindi se la trovate prendetela perché per l'estate secondo me è perfetta belle donne io come sempre vi ringrazio per essere state con me e per aver avuto la pazienza di seguire il video fin qui sino alla fine nel caso vogliate iscrivervi potete farlo adesso cliccando su questa foto ve la metto qui di fianco e se volete dare un'occhiata alla mia playlist beauty potete farlo cliccando sulla foto in alto noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione